gentili telespettatori buona giornata si riparla del mess la lega dice no 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 non ci siamo capiti proprio non ne discuteremo proprio ci sono altre priorità mentre forza italia dice ma dobbiamo ratificarlo per rassicurare gli altri paesi dell'unione europea ma lì in forza italia come state messi ma come state messi ma ce la fate siete connessi allora voi sapete che il mess esiste già è già attivo è un trattato internazionale fatto in europa all'unanimità si è approvato sto mess che è una sorta di fondo è un fondo ci sono dei soldi se un paese dovesse fallire l'europa con questo fondo andrebbe a prestare soldi al paese fallito per rimettersi in sesto con dei tassi di interesse così bassi che manco si vedono però l'europa ti presta questi soldi e poi entra nel tuo paese ti dice quello che devi fare per non fallire per restituire questi soldi quello che è successo alla grecia vi ricordate l'europa la distrutta praticamente oggi per fortuna poveretta si è ripresa ma qui parliamo della modifica di questo trattato che c'è già quindi non pensate che si sta parlando di sì o no del mess il mess meccanismo salvastati quello che vi ho raccontato prima c'è già quello che vuole fare l'europa è una modifica modificare il mess per rendere le condizioni peggiorative per quei paesi ad alto debito l'italia quindi l'europa tutta insieme vuole fare una modifica per renderci la vita ancora più difficile in caso di fallimento questo è il riassunto perfetto quello che vi ho detto quindi è una modifica che va a discapito del nostro paese che nessun paese fa firmerebbe se fosse al nostro posto perché nessun paese in europa prima pensa prima l'europa e poi noi ogni singolo paese dice prima vengo io poi viene l'europa però la repubblica off bananas che noi conosciamo quella proprio off bananas e dice come forza italia perché anche loro sono stesso livello della sinistra dice no dai modifichiamo lo rassicuriamo gli altri paesi ma lo sapete che agli altri paesi non gliene può dare di meno zero anche perché gli altri paesi non sono messi male come noi quindi agli altri paesi di modificare sto mess non gliene può fregare di meno basta dire all'europa io se fossi la meloni me ne stras di tutti andrei lì e direi scusassero lo dico a tutti a tutte le vostre famiglie a noi non conviene quindi noi diciamo no non lo ratifichiamo cancellate tutto scordatevelo ed è finita non le voglio più sentir parlare questo dovrebbe dire la meloni o giorgio giorgetti dovrebbe andare lì e dire basta abbiamo detto di no chiudetela lì finito cambiamo discorso forza italia vogliamo rassicurare gli altri paesi mandate a mamma mia ma che razza di politica c'è in italia quindi la lega è contraria forza italia poverini gli altri paesi ma ecco cosa dirà la meloni non lo so la meloni ha sempre detto no al mess ma ultimamente meloni dice beh dobbiamo capire quando ha detto dobbiamo capire esattamente ho detto ai 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 quel dobbiamo capire sembra un po dobbiamo firmarlo prima o poi agli italiani cosa diciamo gli diciamo che è tutto a posto che io non lo userò mai e chi se ne frega questo se vedrete che probabilmente finirà così finirà così anche se io come vi dicevo prima non capisco visto che il mess c'è già e la ratifica dipende dall'unanimità cioè tutti gli stati devono essere d'accordo noi non siamo d'accordo fine del fine del discorso basta perché dobbiamo fare gli zerbini degli altri paesi signora presidente del consiglio onorevole come la devo chiamare santità ecco dica di no e basta basta guardate che se la meloni dice di sì la lega poi chinerà la testa e forza italia applaudirà avete visto che la lega comunque non ha la possibilità di decidere niente decide la meloni la lega si adegua è così oggi è così la lega può dire a non sono d'accordo e non dicono più niente perché comanda la meloni infatti la lega dice ma il 14 dicembre dobbiamo discutere il mess ma noi non dobbiamo discutere proprio niente e questa è la voce che arriva dalla lega non si deve discutere proprio niente fin quando la meloni non lo ordina e poi lo discutete ecco il ministro giorgetti ha fatto presente che l'argomento è in calendario ecco allora se tu hai sempre detto no al mess perché è controproducente in un futuro per l'italia già solo dire ne discutiamo vuol dire che stai cercando di capire come dire di sì e farlo digerire agli elettori ecco quindi che il mess la modifica del mess sia peggiorativo e poi non serve dire ma tanto guarda che noi non lo useremo mai allora quello è una storiella di babbo natale per gli elettori è ovvio che nessuno utilizza il mess se non è in fallimento quando sei in fallimento è ovvio che lo utilizzi non so se mi sono spiegato oggi se la meloni ci dice io non lo utilizzerò mai credetemi è ovvio che tu non lo utilizzerai mai ma se il paese è fallito è ovvio che tu lo utilizzerai subito quindi non lo utilizzerò mai se non siamo falliti è ovvio ma se siamo falliti dovremmo utilizzarlo e se fra 20 anni o 10 anni il paese va in fallimento e oggi approvano la modifica del mess siamo saremmo nei guai e poi sapete che se fra dieci anni l'italia fallisce e avverà dei problemi gravissimi dovremmo ringraziare chi oggi lo approva ricordatevelo fra qualche settimana quando verrà approvato questo mess dice beh adesso non succede niente hanno detto di sì ma fra dieci anni cinque anni nel caso l'italia dovesse fallire sono chevoli ameri americi ameri come diceva lino banfi sono chevoli ameri ameri arrivederci a tutti e grazie